Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, come avete visto in tantissimi nello short ci sono arrivate le gommine del mulino bianco siamo scesi in portineria e sopra la casella c'era questo pacchetto, ma noi non aspettiamo niente, ci eravamo dimenticati sono arrivate, eccole qua, pezzo di cartone da proteggere e quindi siamo curiosissimi però è morbido, io le gommine le ho da qualche parte, quelle originali degli anni 80 ancora ecco qui, in pratica come funziona, voi comprate 6 confezioni di alcune merendine tra cui plum cake, flauti e non mi ricordo quali altri lo potete trovare sul sito, all'interno della confezione c'è un codice, andando sul sito inserendo 6 codici avete gratuitamente a casa, spedizione compresa, le sorpresine poi c'è un altro codice con scritto esplora le magiche delle sorpresine? poi vedremo che sono divise in 3 blocchi, primo, secondo e terzo noi abbiamo scelto il primo, questo qua poi se riusciremo a raccogliere altre 6 confezioni faremo il... credo che prenderemo quello lì in più si può vincere anche la visita a uno stabilimento della Molino Bianco che noi non abbiamo vinto per il momento allora, la confezione è molto simile a quella di una volta però una volta cos'era? aspetta Sara le trovavi tutte... ma tu sbirci direttamente dentro le merendine in ogni pacchetto c'era una confezione di questa con un giochino o una gommina sei rifortunato oggi come oggi avremmo pesato i pacchetti per capire se c'era una gommina o un'altra sorpresa ma andiamo ad aprire, perché noi siamo veloci così potete vedere altri video nostri o di altri la prima l'ape l'ape ed è una mega gommina grossa carina, fronte a retro ci sta, dai, è bella facciamo che... aspetta, ci spostiamo, ci abbassiamo e le posizioniamo tutte una vicino all'altra ape con una scatola qua rappresentativa chiusa poi le inseriamo tutte papavero papavero, questa è molto bella è caduto qualcosa si ah, la maglia di sughero perché sono stati dei lavori dei cambiamenti infatti c'è più luce quindi apre, papà, devi spingere no, aspetta, aspetta, aspetta che, l'ho aperta al contrario e qui abbiamo plum cake classico plum cake mi fa ridere il fatto che se lo giri c'è di nuovo plum cake classico eh, questa non è bella, eh, perché dall'altra parte si dovrebbero essere tutti gli ingredienti descritti vabbè, vi garantisco che è massiccia e pesante già pesano stra tanto stra tanto sì, stra tanto alla prossima e ricordano dei voi i fiammiferi non so se sapete cosa sono una volta si usavano tanto per accendere fuoco in cucina e assomigliavano alle scatole dei fiammiferi ma dai, ma chi è che non sa cosa sono i fiammiferi per prendere queste meravigliose gommine i flauti i flauti al latte che sono molto buoni eh, quindi le, eh, è bello il meccanismo anche se era più bello trovarli all'interno dei pacchetti cioè tipo al posto del papà ah, ma non avevo notato, scusa, che il pacchetto è leggermente diverso questo è sacchetto di biscotti eh, lo so non ci avevo fatto caso eh, in base a quello che c'è dentro quindi ricapitolando comprate 6 confezioni inserite 6 codici vi fate mandare a casa uno dei 3 set ma posso dire che volevo il plum cake vado a vedere anche a loro cosa volevi volevo il plum cake i flauti le crostatine questo qua è il tegolini e i galletti eh, lo so allora a me questo in fondo piaceva molto molto infatti eravamo in dubbio però il papavero e l'ape ci piacevano molto anche quelli però c'era qua c'era la casetta però qua c'erano i flauti il plum cake e i bagliocchi che sono più o meno molto tipici diciamo ma c'era un robot degli anni 80 che diceva con l'aiuto del sole vincerò che era il Daitan 3 e invece noi diremo con l'aiuto delle nonne forse ne prenderemo oltre 6 che ho scoperto che le nonne a volte prendono questo tipo di merendine e quindi se tengono le scatole ci danno i codici e con quei codici faremo arrivare sicuramente quello col mulino bianco quindi questo con la gommina proprio della casa del mulino bianco questo è quanto spero che questo video vi abbia fatto piacere speriamo di essere riusciti a essere tra i primi a pubblicarlo e speriamo di poter farne vedere altre una bella scatola ovviamente un bel sacchetto gigante di tarallucci per la Barbie esatto è la scatola per un mese ovviamente funzionano anche come gomme da cancellare perché sono gommine però non si possono usare il capavero è la cosa lì l'ape anche si però questi vanno a finire sai dove? insieme alle alla golden card e alle quella che abbiamo preso con i superfoodies e quindi questa scatola diventa la collezione avete presente quando vi si sblocca un cassetto di memoria nel momento in cui una persona dice una certa parola ecco stessa cosa è stato uno dei nostri video top eh 200.000 visualizzazioni cose del genere esatto va bene comunque grazie per averci seguito fin qui vi ricordo iscrivetevi al canale mettetevi la like condividete commentare schiacciate la campanella per assaggiarci su tutti i nostri video e come sempre noi vi stasera ci vediamo al prossimo video ciao